Definizione di gourmet. Individuo predestinato al godimento del palato con una propensione per le vivande delicate. Che la gara abbia inizio! Ma su D-Max le cose cambiano sempre. Per definizione. Sono l'uomo banana! I migliori chef gourmet degli Stati Uniti si sfidano in una corsa contro il tempo a bordo dei loro furgoni. La posta in gioco? 50.000 bigliettoni. Fast & Food, una nuova serie. Dal 13 gennaio alle 12.40. Su D-Max. Su D-Max.